Chi sei? Chi sei? Fatti vedere Chi sei? Chi sei? Fatti vedere Virus maledetto Covid-19 Virus maledetto Covid-19 Chi sei? Chi sei? Fatti vedere Chi sei? Chi sei? Fatti vedere Virus maledetto Covid-19 Virus maledetto Covid-19 Chi sei? Chi sei? Fatti vedere Virus maledetto Covid-19 Chi sei? Chi sei? Virus maledetto Covid-19 Chi sei? Chi sei? Virus maledetto Virus maledetto Covid-19 Covid-19 Chi sei? Chi sei? Chi sei? mari Chi sei? Chi sei?